la prova della prima batteria di qualifica invece ho visto che con la ZPO la patenità anche per la busta per quella mentre con la musica si manda un po' di la musica si manda meglio dovrebbe si mandare ecco siamo in un stesso caso alla parte complessiva di gara con l'arrivo con l'altra guarda con il raccoglio si 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.